Il difensore dell'Ascolio Nauel Valentini commenta l'importante successo di sabato scorso contro il Lecce. Mi sono trovato bene, l'unico era tanto che non facevo 90 minuti e quindi nel secondo tempo sono calato un po' fisicamente, però è normale perché mi mancava un po' il ritmo partita, però sono molto contento di aver giocato e anche che la squadra abbia vinto, che era molto importante per noi. L'ho anche fatto a Spezia altre volte in Serie B e quindi mi ci trovo anche bene, ovviamente mi ho piede in destro, però posso anche fare questo ruolo. Noi siamo determinati e abbiamo questa grinta e determinazione nel giocare, penso che possiamo fare tranquillamente. L'unico che deve esistere è questa grinta e questa determinazione sempre, perché dopo i moduli si servono a fare delle determinate giocate, a giocare in un determinato modo, però in Serie B è molto importante la cattiveria e la determinazione, quindi lo abbiamo anche visto in questa partita. Come tutta la squadra, diciamo, nella fase difensiva siamo sabene per difendere, soprattutto anche Ardemagni, che ha fatto un lavoro grande nella rincorsa e anche nelle palle lunghe a tenere palla e ci ha fatto riposare, questo penso che sia stata una delle chiave della partita. Per me l'immagine della partita, che siamo stati tutti uniti, tutti vicini, penso che dobbiamo continuare a mantenere questo. è lo più importante, diciamo, in questa unione, tramite la società, i tifosi e noi come giocatori, come squadra. Se troviamo questa intesa, questa unione, penso che si possono raggiungere cose importanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.